A basso il 9 di Gianni Rodari Una scolara faceva le divisioni. Il 3 nel 13 sta 4 volte con l'avanzo di 1. Scrivo 4 al quoto, 3 per 4, 12, a 13, 1. A basso il 9. Ah no! Gridò a questo punto il 9. Tu ce l'hai con me? Perché hai gridato a basso il 9? Che cosa ti ho fatto di male? Sono forse un nemico pubblico? Ma io... Ah, lo immagino bene. Avrei la scusa pronta. Ma a me non va giù lo stesso. Grida a basso il brodo. A basso lo sceriffo. A basso l'aria fritta. Ma perché proprio a basso il 9? Scusi, veramente... Non interrompere è anche cattiva educazione. Sono una semplice cifra. Ma anche io ho la mia dignità e voglio essere rispettato. Insomma, a basso la tapparella, a basso la cresta, lasciami stare. Confusa e intimidita, la scolara non abbassò il 9. Quindi, sbagliò la divisione e si prese un brutto voto. Qualche volta non è proprio il caso di essere troppo delicati. Grazie. 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 Grazie.